Ehi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch PuniPuni Nuovo evento in collaborazione con Kamen Rider Dopo un diverso tempo si torna nuovamente con un evento di Kamen Rider Non me lo aspettavo anche se non è che controllassi costantemente le pagine di Twitter per essere aggiornato sul nuovo evento Evento tra l'altro con Oajiki Ora bisogna stare a vedere se è l'Oajiki Fionda o se è l'Oajiki Biglie Perché c'è differenza tra le due Una tiri e una trascini Quindi se è la Fionda meglio, se non è la Fionda so cavoli amari, vediamo Eh, le Biglie, accidenti Però, oh, tostissimo il nemico, eh Ganzo proprio, ganzo, ganzo bello Dunque sconfitto e andiamo a fare delle slottate Non è che io faccia molto altro su PuniPuni È quella la parte più divertente Il problema dopo è farmare Anche se qui si farma piuttosto bene se hai di Yo-Kai giusti Se poi giochi ogni qual volta hai la possibilità effettivamente di giocare L'evento Che poi il minigioco dell'evento qui è l'unico modo per farmare Ma la scorsa volta si è farmato bene Abbiamo il nulla cosmico No, invece No, abbiamo lo Yo-Kai Uno degli Yo-Kai dell'evento Tripla S E anche qui, a quanto pare C'è il bonus Come l'altra volta Che sale direttamente a livello 50 E ha 3 Energy Max Non ho ben capito perché facciano sta manovra Perché poi alla fine Boh, non lo so Alla fine uno si compra le spere, le cose Con i soldi del gioco Ma Boh Meglio per noi, eh Vai con la seconda slottata Vediamo di trovare qualcosina Ce la facciamo sto giro? No A sto giro ancora no Anche se Dalle biglie rosse Una volta mi è uscito L'ultimo Re Shogun Quindi Ci sta Ah ma ancora il triple S di prima Non è che sia proprio utile Oddio Posso aumentare Sì, io aumento l'Energy Max Senza I segreti dell'anima Ah ma questo è un triple S vecchio Eh sì Poi si vede anche dal design Più che piove vanno avanti Più diventano elaborati Sofisticati Una nuova multi Vediamo un po' chi esce Tre sfere oro Bah Kaira C'è Kaira E comunque sia il triple S sotto Porca miseria Quello proprio Si è fissato con me A sto punto porto l'Energy Max A livello 4 E alleluia Non è la volta buona Neanche questa Ah Vediamo un po' chi esce Il triple S di prima Va bene A sto giro ce la facciamo? No Cavolo però Che palle Va bene che ne volevo fare Più di 10 Perché sai Niente? Ma dai Questa Questa è la volta buona Me lo sento Questa Sarà la multi Che mi farà trovare Un triple Z Eccola Eccola E lei E lei E lei che arriva Ok questa me la voglio proprio Godini Vabbiamo Massimo E chi è? Ah Cavendrider Levi Il capitano Levi Tra l'altro Rango Z Il capitano Levi L'irreprensibile capitano Levi Colui che beve solo te E il resto Fa abbastanza Che gear Vabbè Andiamo avanti Altra multi Per me Questa non sarà l'ultima Ne voglio fare Altre tre Magari Ne so Vediamo Vorrei riuscire a trovare qualcun altro Dai Niente No niente Addio Insomma Coma San Ma Va bene Coma San Spiritato Tra l'altro Che era di un evento Vecchissimo Di tre anni fa Almeno quattro Forse Anche quattro anni Ah comunque Eccola qui Guardalo Guardalo come gode Dai Un tripla Z Su Ok Kamen Rider Ousu PC Però fa male al boss Più difficile questo Però Ousu PC Perché Ouse Ouse Tipo liquido Bah Può essere Non lo so Però è bello Cioè Boia Che design Io Kamen Rider Non l'ho mai seguito Veramente Però Certi design Sono fantastici Guarda questo Ah ma Ouse Per le tre O Quindi Ouse Ah Ouse Perché a plurale Va bene a te Vai Altra multi Sperando di beccare qualcosa Dai Ti prego Esci Esci Deve uscire alto Mamma mia Niente Anche qui Proprio zero Davvero Stavolta Non ci siamo No Non è che non voglio Spenderla sto giro Però Mi farebbe piacere Non spenderle Certo Però Ora che ce l'ho Dici Sai Buttace le Quali Sì Però Anche meno Niente Comunque oro Beh Loro potrebbe nascondere Un altro Triple S Che non voglio Eh infatti Non c'è Ah un altro Kamasan Vai No Ma è quel paese Va Ah però Attenzione Ah no Questo è quello Vecchio Vai facciamoci Un po' Secondo Voglio vedere Quanti danni Faccio Con Quello che fa Più male Al boss Normale Poi magari Il boss Difficile Tanto Me lo vedo Per conto Io Perché alla fine Su yokai watch Faccio solo Le slottate Su puni Puni Certo Ovviamente Ora farò Più schifo Del solito Vediamo un po' Cercherò Di mandarla Quanto fa 1.800 Buono Però siamo già 5.50 Di difficoltà Con i punti Con i punti Ferita Ma sì Ma ce la risolviamo Facile Bisogna arrivare A 40 Perché a 40 Poi c'è lo yokai Bonus Questo qui C'è Kamen Rider Vice Yeah E la ricompensa Dello stampino Che è un Kamen Rider Ci sta Beh non c'è altro Da vedere Per questo episodio Di puni puni Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Trovate tutti quanti I link utili E noi ci vediamo Ovviamente Alla prossima Bye bye